Giorgina, sei pronta ad impersonare Merida, la ragazza che lotta per cambiare il suo destino in Ribelle The Brave, il videogioco? Assolutamente sì, anzi ti dirò di più, il gioco è già disponibile per PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PC, Mac e Nintendo DS e voi non perdetevi il nostro servizio. Ribelle The Brave, il videogioco, anticipa l'omonimo ed attesissimo lungometraggio animato firmato Disney Pixar. Disponibile per Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PC, Mac e Nintendo DS, è un action in terza persona davvero spettacolare, che attinge a piene mani dai materiali e dai contenuti esclusivi del film da cui è tratto, presentando tre modalità di gioco e un'interessante cooperativa.